Benvenuti e bentornati su LeonTube, in questo video andiamo a vedere come effettuare l'incarico completa briefing ombre. Dobbiamo trovare lì quell'icona che si vede la nella mappa del computerino andare a cercare il briefing da fare e sono tutti diciamo delle armi per lì però lo sto trovando io in giro adesso andiamo a vedere questo ok era qui da qualche parte prendiamo la cassa si dovrebbe vedere eccolo qua lo dobbiamo attivare e selezionare e poi andare a fare i punti assegna una pistola non comune colpisci un giocatore nemico alla testa per ottenere lingotti assegna colpisci i giocatori nemici da più di 30 metri colpisci i giocatori nemici mentre spari senza mirino e infliggi danni ai giocatori nemici entro 15 metri per ottenere lingotti direi che queste due sono le più semplici danneggia mentre spari senza mirino entro 15 metri io scelgo questa qui del senza mirino ha dato il fucile lui questo qua e adesso andiamo a cercare i giocatori da colpire non valgono gli npc non valgono scagnozzi e vari quindi dobbiamo cercare un giocatore abbiamo quel tempo lì per farlo quindi cinque minuti e nei quali dobbiamo andare a cercare un giocatore e colpirlo danneggiarlo ecco i giocatori che si stanno battagliando dobbiamo sparare senza mirino dobbiamo danneggiarli fare eccola qua completata ora dobbiamo trovarne un altro va bene anche nella stessa o in un'altra partita quindi se troviamo la nostra vecchia conoscenza è in cerca di provviste ma ci ascolta illustraci il piano shuri vuole usare dei ricalibratori per invertire il flusso dei segnalatori di fenditura in questo modo avremmo l'energia necessaria a espellere doom dall'isola tramite una fenditura ho capito quindi dobbiamo portare i materiali a lei e poi affrontare il doom bot per fare un test ok ecco qui a questa è la seconda perfetto un briefing questo è diverso ancora più facile anche se ora c'è la tempesta dobbiamo aspettare che scende il la riconsegna la consegna e eccola qua sta arrivando quindi se riusciamo ad accelerare dove non la vedo eccola lì ah perfetto è buona è fuori dalla safe fuori dalla tempesta andiamo ad aprirla dobbiamo aprirla noi prima che la apra qualcun altro eccoci qua perfetto aperta e in carico completato se il video vi è piaciuto vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti